oggi facciamo delle deliziose girelle salate con gli asparagi per realizzare questo impasto ho utilizzato la stessa ricetta dei biscotti medaglioni se non li avete ancora visti vi lascio alla fine di questo video perché sono semplicemente i biscotti salati più buoni del mondo all'interno di una ciotola mettiamo tutti gli ingredienti secchi aggiungiamo il burro freddo e impastiamo in seguito dobbiamo aggiungere il latte e continuiamo ad impastare finché non otteniamo un panetto bello omogeneo al posto del latte potete utilizzare anche l'acqua questa è una sorta di pasta brisé diciamo questa è la consistenza che deve avere l'impasto adesso dobbiamo stendere la pasta in modo da renderla bella sottile ora non ci resta che farcire il tutto con abbondante parmigiano un pizzichino di sale e un po di pepe in seguito dobbiamo aggiungere i nostri asparagi che prima abbiamo lessato li mettiamo in fila cosi ora dobbiamo arrotolare bene avendo cura di stringere in seguito non dobbiamo fare altro che ritagliare le girelle ecco qua le girelle sono pronte per essere infornate le mettiamo sopra una teglia foderata con la carta forno e le inforniamo a 180 gradi finché non diventano belle doratine in questo caso ho utilizzato solo gli asparagi ma volendo potete anche aggiungere del prosciutto cotto all'interno se questa ricetta vi è piaciuta lasciate un mi piace e per non perdere le prossime ricette del canale ricordatevi di cliccare sul campanellino sopra in modo da attivare le notifiche vi ringrazio e ci rivediamo presto sempre qua su ricette di gabri ciao 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 ciao